Non fatevi sviare dal nome, Evergrande è un colosso dell'immobiliare cinese, colosso dai piedi d'argilla, 70 miliardi di dollari di fatturato ma 305 di debiti che lo stanno portando al collasso, vende case ai cittadini di fascia medio alta, vanta 1300 progetti in più di 280 città, conta 200 mila dipendenti e 3 milioni e 800 mila nell'indotto, tutti furibondi, gente che protesta da tempo per la crisi dell'azienda che non è proprio una novità, cova da mesi se non anni, ma è da vent'anni che le banche cinesi, controllate dal governo di Pechino, stanno pompando denaro nelle vene di questo gigante che crescendo si è messo a produrre anche auto elettriche, informazione, cibarie, calcio. Hui Kayan, 62 anni, uno dei cinesi più ricchi, 11 miliardi di dollari di patrimonio, l'ha fondata nel 1996 col nome di Hengda Group a Guangzhou, una volta la chiamavamo Canton, la megalopoli a nord di Hong Kong sul fiume delle perle. Ma qui ormai più che perle ci sono patacche, quest'anno le azioni sono crollate dell'85% e l'azienda non riesce più a pagare gli interessi sui debiti, mentre un milione e mezzo di persone che hanno già anticipato i soldi per l'appartamento sono sospese nel vuoto. Una casa di carta, la sede fiscale alle isole Cayman, che rischia di far venire giù tutto. Oggi le borse asiatiche ed europee sono andate in tilt, anche Wall Street è partita male. Evergrande è troppo grande per fallire? Vedremo, il crack del 2008 ha fatto sparire Lehman Brothers, anche se chi continua a pagare il conto siamo noi tutti dentro la bolla del capitale, adesso con una capitale nuova nel celeste impero, ma con i vizi e le paure di sempre.